ciao a tutti e ciao anche ai nuovi che è la prima volta che partecipano a un mio webinar magari la prima volta che partecipano a un webinar in generale e quindi un saluto a tutti adesso state entrando e quindi dobbiamo perdere qualche istante per permettervi di sedervi prendere posto e intanto vi ricordo qualche cosa vi ricordo che abbiamo la nostra aula virtuale nostra classe virtuale in we school e che la classe virtuale composta di un uolo un muro dove si possono scrivere i messaggi per varie questioni poi abbiamo board ogni board è associata al webinar e in questo caso abbiamo la board del web del webinar squat inquadra vinci costruisci il libro game eccetera eccetera se entrate in questa board trovate le istruzioni per partecipare ma ovviamente se siete qui le avete già lette e spero che le abbiate lette perché queste istruzioni danno una serie di indicazioni anche utili sulla su come seguire il webinar poi ci sono delle risorse che durante il nostro webinar in particolare ne ho aggiunta una poco fa prima di aprire il webinar che è il file sorgente per esercitarsi il file sorgente che cos'è è esattamente il file nativo pubcoder che utilizzerò questa sera per il nostro webinar ma è anche il file nativo che ho costruito per realizzare il gioco e il documento del gioco lo trovate qui nel formato xpub e ipub e poi ho inserito anche una web app cioè lo stesso gioco attraverso internet e poi come al solito il workflow del webinar perché così sappiate in anticipo di che cosa ci occuperemo esattamente poi vi ricordo che voi potete eccolo qua voi potete scaricare acquistandoli alcuni di webinar precedenti più un'altra serie di risorse si trovano qui ecco li potete scaricare questa è una novità che ho messo a punto da poco dopo alcuni esperimenti li potete noleggiare per vederli oppure proprio acquistarli scaricarli dove c'è scritto webinar così vedete webinar punto si è proprio il webinar la registrazione del webinar non sono in ordine cronologico e sono ordinati diciamo un po per argomenti ecco poi ci sono altri documenti sempre video che non hanno la dicitura iniziale di webinar e che sono delle altre risorse utili per diciamo comprendere appieno i webinar che sono stati registrati la cosa interessante di questo servizio che è su vimeo che chiunque di voi può acquisire alla fine vendere i suoi prodotti distribuirli in questo modo la cosa interessante dicevo che chi acquista tutta la serie completa quindi qui si può noleggiare oppure acquistare ecco chi acquista tutta la serie completa avrà sempre anche tutti i nuovi nuovi video nuove registrazioni risorse che verranno inserite all'interno e questo è interessante almeno fino al momento in cui non deciderò che avete troppa roba che avete preso troppa roba pagandola poco e quindi non lo so però qualcosa d'altro e come si arriva qui beh la cosa più semplice da fare è andare sul mio sito che è didanext.com didanext.com ed ecco qui vedete avete sempre le novità varie didattica creatività eccetera fate clic qui sopra qui andate nella pagina dei webinar delle informazioni relative ai webinar e qui naturalmente c'è il link per accedere a vimeo ecco un'altra cosa che volevo dire interessante è che su questa costa un webinar intanto così sto parlando per consentire a tutti anche a qualche ritardatario di entrare nel webinar è che vi ricordate penso alcuni di voi si altri magari no perché sono nuovi io avevo dato l'opportunità e parecchi di voi diverse centinaia di voi all'anno sfruttata di avere gratuitamente l'ebook il le luci rosse del colonnello eccolo qua che avevo che un romanzo breve che ho pubblicato recentemente bene ora sappiate che questo questo libro è diventato anche un libro di carta eccolo qua ve lo mostro lo vedete è molto carino è molto carino e si può acquistare di carta su amazon o su tbs attraverso il sistema del print on demand cioè della stampa e distribuzione della copia su richiesta perché vi dico questo non tanto per farvi una proposta di vendita ma quanto per il fatto che oggi noi possiamo veramente mescolare le due le due cose cioè la produzione di book libri digitali nelle varie forme per tutti i dispositivi possibili immaginabili e anche contemporaneamente la versione cartacea e la versione cartacea la possiamo avere addirittura in due modi quindi così come io adesso ve l'ho mostrata cioè ne posso ordinare io una serie di coppie che in questo caso per esempio regalato ai miei colleghi di scuola per natale e ad alcuni naturalmente non a tutte le centinaia di colleghi che ci sono a scuola e oppure e anzi contemporaneamente lo stesso libro può essere venduto al prezzo che stabilite voi ovviamente deve il prezzo deve essere maggiore del costo di stampa e lo e il lettore lo può trovare il libro stampa in ebs e amazon allora siccome ci sono molte novità interessanti in questo campo che consentono veramente alle organizzazioni di poter creare i propri libri e vendervi per esempio una scuola di poter creare vendere dei propri libri di testo e in da di poter creare vendere i propri libri per la formazione interna del personale per esempio oppure le guide di determinati prodotti e tutti i formatori post agevolmente le proprie i propri strumenti e proporli allora ho pensato che può essere interessante fare un webinar di su questo argomento nel quale vi spiegherò esattamente che cosa dovete fare per ottenere il massimo risultato in questo campo e dunque credo che faremo questo webinar giovedì sera prima di natale lo voglio fare voglio fare ancora un webinar prima di natale comunque a stasera e domani insomma cercherò di organizzare la cosa bene direi che basta siete entrati tutti e abbiamo fatto i nostri saluti le nostre presentazioni quindi cominciamo il nostro lavoro bene allora scuoti inquadra e vinci costruisci il libro game con coding quark code e tanta fantasia ovviamente di che cosa parliamo oggi oggi parliamo appunto di come costruire il una struttura particolare quindi non un libro game con una varietà ampia di giochi ma una struttura che vi consente con gli opportuni adattamenti di inserire all'interno di un libro dei giochi interessanti e innovativi per fare questa operazione dobbiamo prima occuparci di preparare l'interfaccia e la struttura poi dobbiamo impostare gli eventi le azioni perché perché questo gioco deve essere costruito attraverso il coding cioè degli elementi che ci consentono di far interagire gli oggetti e le risorse che collocheremo all'interno del libro poi dobbiamo studiare una particolare funzione di pub coder che è quella dei contatori che è diciamo il cuore del webinar di questa sera perché attraverso questa funzione vi si aprirà un mondo particolarmente interessante sulla costruzione di oggetti interattivi all'interno di ebook quindi alla fine dobbiamo mettere a punto l'interfaccia animata vale a dire le parti così di animazione interazione di il maquillage del libro e poi dobbiamo pubblicarlo come ebook o come web app quindi ci occupiamo di questo processo con particolare attenzione al cuore del problema che appunto la gestione delle operazioni di coding per la costruzione di questo libro dunque da che cosa partiamo partiamo prima di tutto da un rappel su che cosa sia il di book che stiamo costruendo e quindi e come facciamo a fruirne allora noi usiamo abbiamo detto come applicazione pub coder usiamo pub coder perché è una scelta personale ed è sicuramente una delle migliori applicazioni che consentono di svolgere questa operazione se non allo stato attuale secondo me anche il miglior prodotto oggi sul mercato se vogliamo costruire un libro interattivo noi dobbiamo sapere che il libro per essere fruito dal maggior numero di dispositivi deve necessariamente essere prodotto nel formato ipub e in particolare nel formato ipub 3 ipub 3 è quello che contiene le maggiori caratteristiche di interazione e quindi anche giochi filmati e tante cose che possono poi comporre un libro game il formato ipub 3 come il formato ipub sono uno standard uno standard che è stato elaborato da un consorzio quale partecipano grandi multinazionali del settore ma anche piccoli operatori e per esempio vi partecipa pieno titolo anche il team di pub coder ecco perché è uno dei motivi per cui questa applicazione perfettamente coerente con lo standard ipub e ipub 3 che cosa vuol dire standard vuol dire che chiunque voglia costruire un lettore di libri che rispetti le specifiche che vengono stabilite da questo consorzio avrà come risultato il fatto che i lettori potranno fruire grazie a questi reader dei prodotti creati in ipub 3 attraverso tutti i dispositivi per i quali i reader sono stati creati quindi nella sostanza abbiamo dei prodotti che hanno una grande visibilità attraverso i sistemi ios android windows eccetera e quali sono questi reader io vi consiglio per se usate i dispositivi ios o apple naturalmente i books che è perfettamente compatibile con lo span con lo standard ipub 3 se usate altri dispositivi oppure anche lo stesso ios allora potete utilizzare adobe digital edition che è compatibile con lo standard ipub 3 altrimenti un'altra soluzione è di creare il prodotto sempre con il pubcoder ma nel formato xpub che è un nuovo formato che è stato adottato da pubcoder e che è leggibile attraverso il reader specifico di pubcoder questo ridere si chiama pub ridere ed è ovviamente lo trovate sia per i dispositivi ios quindi app sto parlando i dispositivi mobili sia per i dispositivi android allora riassumo i libri che noi possiamo produrre per avere la più ampia diffusione possibile devono essere in un formato standard e il principale è l'unico praticamente esistente di pub e pub 3 dovete avere dei reader per poter leggere questi libri ios usate tranquillamente i books per altri sistemi potete impiegare adobe digital edition e lo potete fare anche per i sistemi ios e poi la novità con l'uscita della versione 3 di pubcoder che è proprio di questi giorni avete a disposizione anche un reader prodotto dagli stessi sviluppatori di pubcoder che è pub reader pub reader legge i documenti nel formato xpub vedremo poi naturalmente come possiamo produrre il nostro libro e nei vari formati allora io penso spero che voi abbiate intanto scaricato i documenti che sono all'interno della classe virtuale che quindi abbiate giocato al libro game che ho creato e che si chiama scuoti inquadra e vinci funziona guardate facciamo un tap sul libro naturalmente per aprirlo si apre la copertina e arriviamo nella schermata iniziale la prima pagina del libro che non è altro che una rappresentazione grafica non c'è niente da fare di interessante qua quindi noi sfogliamo il libro eccolo qui e qui abbiamo le istruzioni che compaiono automaticamente si gioca in due tu scuoti il tuo tablet o smartphone poi il tuo compagno inquadra i QR code che compaiono velocemente poi verificate se avete vinto allora prima di tutto la meccanica di questo gioco consiste nel fatto che sono due i giocatori a dover affrontare questa sfida io un giocatore come sto facendo io tiene il suo smartphone e quindi è pronto a far partire il gioco e l'altro il suo compagno invece con il suo dispositivo suo smartphone oppure tablet dovrà cercare di inquadrare il QR code sperando di beccare quello giusto allora vedete che qui abbiamo un pulsante questo pulsante ci consente di passare alla pagina successiva cosa che tra l'altro potremmo fare anche sfogliando il libro ma vedete in questo modo io lo posso sfogliare in questo modo oppure posso fare clic sul pulsante ora dovete sapere che all'atto della realizzazione dell'ebook della sua produzione io posso inibire lo sweep cioè posso inibire il passaggio da una pagina all'altra e quindi è molto interessante questa cosa perché inibendo questo meccanismo spero che mi stiate seguendo e comprendiate quello che sto dicendo se io inibisco questo meccanismo che cosa ottengo ottengo il fatto che costringo il fruitore di questo libro a passare da una pagina all'altra solo attraverso i pulsanti e le azioni che io inserisco nella nella pagina stessa ecco perché ho collocato questo pulsante qui quindi facciamo tap sul pulsante e andiamo nella pagina successiva notiamo come composta questa pagina abbiamo un titolo ovviamente abbiamo un'icona che rappresenta il dispositivo che deve essere scosso e ovviamente qui c'è un'immagine grafica che poi rappresenta lo spazio l'area attraverso il quale attraverso la quale i quark code saranno mostrati quindi che cosa dice dice di scuotere e mi dice anche che ho solo due tentativi qui entra in gioco poi il famoso contatore di cui vi parlerò quando vedremo proprio apriamo l'applicazione vedremo com'è fatta allora siete pronti io sto scuotendo e voi che cosa fate voi potete inquadrare con il vostro quark code potete inquadrare il col vostro reader di quark code e il qr che appare e vedrete che cosa succede succede che sia che voi abbiate beccato il quark code che vi porta a vincere qualche cosa sia che invece abbiate perso sempre in tutti e due i casi partirà una mail quindi adesso io ripeto l'operazione se voi siete pronti potete inquadrare con il vostro con un dispositivo il quark code poi vedere che cosa avete vinto e tra l'altro vincete una cosa vera reale perché questo è un gioco vero io ho visto che molti hanno sottovalutato la questione perché in tanti mi hanno scritto che l'hanno provato però io non ho ricevuto le mail quindi non sono arrivati fino alla fine quando hanno visto la mail non hanno usato poi scrivere per avere il premio e invece no mandatela fate tap sull'invio inviate la mail e voi riceverete ho creato una risposta automatica quindi non mi dà fastidio ricevere decine di mail e riceverete il vostro premio allora facciamo la seconda operazione siete pronti poi voglio che mi scriviate nelle domande i risultati ok allora pronti e infatti vedo che giochi qualcuno qui come alessandra mi dice che ha visto ma vabbè non ha giocato d'accordo allora pronti sto per scuotere quindi guardate che il quark code verranno e visualizzati solo per una decina di secondi quindi siete pronti scuoto il mio dispositivo eccolo qua vedete e parte la e notate anche che il contatore vedete fa un conto alla rovescia quindi abbiamo eccolo qua il contatore ha esaurito il conto alla rovescia e poi ha compreso che abbiamo anche esaurito i due tentativi a disposizione quindi già possiamo capire qualche cosa di questo gioco cioè possiamo capire che questo gioco ha a disposizione due tentativi e si fonda su due conteggi differenti quindi alla fine saranno due i contatori che sono utilizzati il primo contatore è quello che effettua il conteggio alla rovescia e il secondo contatore sarà quello che conteggia il numero di tentativi quando il primo contati contatore aggiunge lo zero cioè esaurisce il numero di tentativi e naturalmente il gioco si bloccherà ma quando il secondo contatore avrà raggiunto il suo target che consiste nel calcolare che sono stati effettuati due tentativi si bloccherà il gioco ok allora ho vinto ma che cosa devo fare beh se hai vinto ti apparirà una mail in modo automatico e quindi dovrai devi spedire semplicemente questa mail appare automaticamente inserita nel quark code lo rifacciamo ancora una volta vedete il primo contatore eccolo qua il quark code appare quindi voi cercate di beccare il quark code lo rifaccio così poi chiudiamo l'applicazione perché i tentativi a disposizione appunto sono due quindi voi inquadrate sia sia che abbiate vinto sia che abbiate perso vi comparirà si aprirà in automatico un meccanismo per inviare una mail al sottoscritto con il testo già preimpostato torniamo alle nostre slide e vediamo che cosa dobbiamo fare per costruire questo gioco allora la prima cosa che dobbiamo fare è preparare l'interfaccia cioè tutti gli elementi che saranno utilizzati all'interno dell'ebook per giocare quindi prima di tutto l'oggetto immagine lo vedete qui questo oggetto ci consente di inserire le immagini grafiche che importeremo da internet ecco una novità di pub coder particolarmente interessante che possiamo costruire la grafica una grafica libera da diritti cioè che possiamo utilizzare realmente importandola direttamente da internet e la schermata sarà questa per esempio se noi digitiamo smartphone ecco che abbiamo a disposizione tutta una serie di icone che tra le quali possiamo scegliere quelle di nostro interesse oppure possiamo cercare delle fotografie quindi la prima cosa a fare sarà disporre le immagini necessarie per e quelle che noi usiamo sono queste sono solo quattro le immagini che impieghiamo all'interno di questo libro ma la cosa importante ovviamente consiste nel predisporre i QR code che sono questi uno per la vincita e uno invece per il risultato negativo questi QR code si creano attraverso un'applicazione cercati su internet ho già fatto un webinar su questo tema potete trovare anche le indicazioni nella classe se vi recato oppure potete scaricare la registrazione del webinar in ogni caso potete creare questo tipo di QR code in modo gratuito attraverso i servizi che trovate in internet la cosa interessante è che avete la possibilità di associare l'invio di una mail ai QR code che avete creato quindi se l'utente li visualizza automaticamente verrà spedita un'email al destinatario che voi stabilirete dopo che avete preparato questi elementi allora possiamo pensare a preparare le istruzioni dell'interfaccia e quindi per esempio quella pagina che permette al lettore di comprendere che cosa deve fare adesso io vi faccio vedere quali sono le azioni e gli eventi associati cioè le azioni associate agli eventi in modo tale che possiamo costruire esattamente lo stesso meccanismo dunque avete notato che quando si apre questa pagina compare prima il pulsante istruzioni e poi automaticamente questo testo sparisce e in successione vengono mostrati il primo testo con la prima immagine il secondo con la seconda immagine così via per ultimo compare il pulsante quindi non è niente di straordinario però è un'operazione anche questa che è creata attraverso elementi di coding perché se notate se notate l'evento a cui ci si riferisce in questo caso è l'OAD cioè come fa a partire automaticamente un processo di rappresentazione cioè come faccio a mostrare qualche cosa sullo schermo e a nasconderlo senza premere un pulsante che lanci queste azioni bene allora tra gli eventi che PubCoder può gestire c'è l'evento l'OAD l'evento l'OAD significa che quando la pagina viene caricata nella memoria del dispositivo che stiamo usando quindi abbiamo aperto il libro ci siamo recati su quella pagina e tutti gli elementi nascosti o visibili di questa pagina sono nella memoria del dispositivo quindi sono caricati allora a questo punto noi possiamo scatenare una serie di azioni quindi che cosa abbiamo fatto? ecco il primo elemento di coding fondamentale abbiamo scelto un evento e a questo evento abbiamo associato delle azioni la prima azione che abbiamo associato è quella di attendere due secondi perché? perché il lettore si è recato sulla pagina e gli dobbiamo dare un attimo di tempo affinché possa comprendere quello che sta succedendo poi che cosa fa? nasconde un oggetto quale oggetto nasconde? nasconde l'oggetto istruzioni ovviamente perché questo testo che è collocato in mezzo alla pagina non deve più essere visibile e quindi nasconderà l'oggetto poi mostrerà un altro oggetto che sono il testo scuoti e l'oggetto scuoti e poi attendi due secondi e così via cioè nella sostanza a questo punto ci sarà una successione di operazioni mostra perché le parti nascoste le abbiamo già nascoste che in successione vi faranno vedere gli altri elementi che compongono questa pagina ora l'event load questo evento load è stato agganciato a un pulsante che è il pulsante di avvio però in realtà questo pulsante non deve essere premuto e non è necessario premerlo perché non è necessario premerlo? perché questo pulsante si attiverà automaticamente nel momento in cui sarà caricato cioè load quando il pulsante è caricato allora a questo punto lui darà avvio a tutte le azioni che sono associate allora vediamo subito come si costruisce questa cosa con pubcoder e poi slide dopo slide e alternando appunto la slide che vi inquadra la questione a pubcoder stesso vedremo come costruire tutto il resto del libro quindi che cosa sto facendo adesso adesso passo alla applicazione è un ebook però alla fine è una vera e propria applicazione quella che stiamo costruendo eccola qua abbiamo una copertina va bene niente di straordinario e poi ecco che su questa pagina abbiamo collocato i vari elementi allora questa non è altro che un'immagine grafica che è stata importata quindi la potete preparare con powerpoint, keynote quello che vi pare poi qui abbiamo invece i testi come abbiamo portato i testi su questa pagina lo abbiamo fatto tramite gli oggetti osservate la parte di sinistra dello schermo se voi osservate questa parte ecco vedete che gli oggetti mostrano tutta una serie di elementi che noi possiamo trascinare sulla pagina e che sono quelli che ci permetteranno di rendere interattivo il nostro libro quindi in questo caso vedete testo non è altro che un elemento di testo trascinato sulla pagina questo elemento poi si governa dalla sezione che è posta sulla destra che è quella delle proprietà quindi la dimensione il font l'allineamento sono tutte cose che vengono stabilite in quest'area mentre per scrivere nel testo basta che io faccia un doppio clic all'interno di quest'area e posso naturalmente scrivere vi è chiaro il meccanismo? quindi al testo poi abbiamo associato un'immagine come abbiamo fatto? allora di nuovo ci siamo rivolti alla sezione che troviamo sulla sinistra quindi abbiamo trascinato l'oggetto immagine adesso lo faccio davvero perché vi voglio proprio mostrare come funziona l'oggetto immagine eccolo qua se faccio un doppio clic magari lo ingrandisco un po' così lo vedete meglio se io faccio un doppio clic su questo oggetto compare una finestra che offre una serie di opportunità naturalmente posso scegliere dalla libreria asset cioè posso scegliere tra le immagini che ho già a disposizione oppure posso importare da disco ma ecco quello che mi interessa ed è appunto una novità interessante di Pubcoder 3 posso importare le immagini da internet e guardate che cosa succede se io scrivo smartphone e poi scelgo le icone ecco che ho a disposizione diverse rappresentazioni grafiche anche in forma svg che è un formato vettoriale molto leggero e molto adatto per pubblicare dei libri perché li mantiene leggeri non li appesantisce ne prendo una qualsiasi per esempio questa guardate che cosa succede ho selezionato l'immagine appare qui il pulsante di importazione importo l'immagine e a questo punto ecco che cosa avviene che è l'elemento importante che poi interessa anche tutti coloro come gli insegnanti e i formatori che hanno a che fare con i diritti che riguarda appunto questa funzione copia attribuzione cioè copia attribuzione vuol dire che adesso che ho fatto click su copia attribuzione ho in memoria i riferimenti dal punto di vista dei diritti di questa immagine e quindi posso tranquillamente importarla in porta immagine ok fatto e vedete che io nel riquadro immagine ho questa icona nel frattempo in memoria ho acquisito i riferimenti in merito all'autore di questa immagine quindi che cosa farò di nuovo nella sezione oggetti sceglierò l'opzione testo e al suo interno incollerò eccolo qua i riferimenti del suo autore questi riferimenti voi li trovate qua in basso vedete questo testo si riferisce proprio alla fonte delle icone che ho importato in questo modo vi è chiaro il meccanismo quindi è molto importante per noi anche se è una cosa semplice da realizzare ma ci risolve tutta una serie di problemi che sicuramente voi conoscete adesso cancello questo dunque ricapitolando abbiamo inserito il testo abbiamo inserito l'oggetto di riferimento quindi le istruzioni adesso vogliamo che tutti questi elementi compaiano al momento opportuno allora prima di tutto voi dovete notare che dovete notare che alcuni di questi elementi disposti sulla pagina sono molto ben visibili e dettagliati altri no per esempio questo testo non si legge questa immagine è tutta tratteggiata come mai il pulsante vedete è composto da queste righe non è bello nero come lo vedete qua sulla destra per quale motivo per il motivo che tutti questi elementi che vedete così non dettagliati apparire sull'immagine sono nascosti come si fa a nascondere un elemento dovete sempre rivolgervi al campo delle proprietà quindi selezionate l'elemento e poi qui nella parte destra voi stabilirete che notate questo pulsantino l'elemento sarà nascosto eccolo qua l'elemento è nascosto se io disattivassi questa proprietà allora avrei una visibilità più dettagliata sullo schermo quindi in questo modo è visibile e in quest'altro è nascosto in questo modo è visibile in questo è nascosto quindi attualmente che cosa abbiamo fatto abbiamo nascosto tutti gli elementi che dovranno comparire in seguito compreso il nostro pulsantino e abbiamo invece messo in evidenza quindi abbiamo mantenuto visibile l'elemento istruzioni e poi la grafica di squat in quadra vinci e altri elementi che possono essere utili vediamo facciamo una controprova e intanto attraverso questa controprova voi potete vedere quali sono le funzionalità di anteprima anteprima la apro la finestra di dialogo di anteprima e scelgo anteprima veloce di pagina lui fa i suoi bravi calcoletti ed ecco infatti come appare la pagina appare esattamente così e poi un po' per volta naturalmente compaiono le i vari elementi allora come facciamo adesso a far comparire questi elementi beh ragioniamo voglio che questi elementi appunto compaiano in modo autonomo quindi devo usare l'evento load ma che cosa voglio che venga caricato diciamo voglio far comparire gli elementi quando viene caricato questo questa icona no aggiungo un pulsante anche per farvi vedere in questo modo come funzionano i pulsanti io li aggiungo semplicemente così eccolo qua pulsante poi un doppio clic cambio il nome in avvio e a questo punto ho due possibilità ho un bel pulsante di avvio qui per cui io posso scegliere guardate sulla parte destra questa volta nella sezione interazioni io posso scegliere l'elemento tap cioè l'evento tap e quindi posso associare all'evento tap per esempio non lo so mostra oggetto e quindi posso far comparire che ne so un testo piuttosto che il pulsantino che è nascosto d'accordo però questo richiede che l'utente il lettore faccia tap sul pulsante di avvio io non voglio che questo avvenga quindi non voglio che la reazione sia determinata dal toccare questo pulsante quindi guardate cosa faccio cancello semplicemente l'oggetto che ho l'azione che ho associato a tap e invece prendo l'azione di load quindi quando il pulsante verrà caricato allora succederanno una serie di azioni naturalmente a questo punto lo devo nascondere il pulsante quindi fra le sue proprietà gli dirò che deve stare bello nascosto perché altrimenti viene istintivo per l'utente toccare il pulsante e che cosa gli dovrò dire beh guardate prima di tutto gli dovrò dire che dovrò nascondere questo testo e quindi come farò seleziono sempre il pulsante shake è l'evento cioè scusate show load è l'evento a cui associo l'azione di nascondere cominciamo a nascondere un po' di oggetti nascondi oggetto vedete come funziona lui mi dice nascondi oggetto me stesso no non voglio che nascondi me stesso eccolo qua dovete guardare la finestra che trovate al fondo di questa sezione facciamo click su questa sul target sull'oggetto target che non può essere me stesso ma deve essere per esempio nascondi che cosa il testo di istruzioni quindi qual è il testo di istruzioni è il testo eccolo qua questo è il testo di istruzioni lo vedete che è stato evidenziato quindi quando questa pagina verrà caricata perché alla fine il pulsante viene caricato poi insieme a tutti gli altri elementi allora l'oggetto istruzioni verrà nascosto e torniamo sempre qui in basso nella parte di destra nella sezione delle interazioni se io gli dico che deve essere nascosto in 0,3 secondi ecco che determino una dissolvenza e poi da lì naturalmente possiamo continuare possiamo dire per esempio aggiungi nuova azione attendi attendi per esempio un paio di secondi direi attendi un paio di secondi perché perché il lettore ha visto sparire istruzioni quindi sa che sta succedendo qualcosa si mette in attesa lo facciamo attendere e poi gli diremo di mostrare vedete un po' per volta tutti questi oggetti continuo l'esempio solo per uno di questi oggetti perché poi la cosa sarà ripetitiva e passiamo invece alla costruzione del gioco vero e proprio quindi che cosa dovrò indicare che dopo aver atteso aggiungo un'altra azione l'altra azione sarà ovviamente mostra perché questi oggetti erano nascosti quindi mostra oggetto anche qui dobbiamo decidere qual è l'oggetto target allora cominciamo dal primo il primo sarà il testo scuoti quindi lo nasconderà il testo scuoti cioè lo mostrerà e poi mostrerà anche mostra un altro oggetto che sarà questa icona qui quindi mostra vediamo non me stesso ma 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 andiamola a prendere scuoti eccola qua l'icona scuoti diremo che anche qui per esempio ci metterà non lo so un terzo di secondo per fare questa operazione eccola qua e adesso vi insegno un trucchettino notate che tutte le azioni associate a questo evento sono staccate fra di loro se noi vogliamo fare in modo che queste azioni siano simultanee le dobbiamo unire quindi quando le azioni sono staccate l'applicazione ne mostrerà una per volta eseguirà un'azione per volta e quindi noi la vedremo una distanza una frazione di secondo naturalmente ma vedremo una successione di azioni se invece le attacchiamo e guardate cosa sto facendo prendo l'azione mostra oggetto lo scuoti e l'associo fino a che la linea rossa la vedete la linea rossa si attacca al mostro oggetto che c'è sopra e alla fine queste due azioni sono attaccate fra di loro quindi vengono eseguite insieme ed ecco che a questo punto il nostro pulsante sarà attivo poi possiamo collocare naturalmente il pulsante di passaggio alla pagina successiva ma questo è banale perché dobbiamo associare a questo pulsante l'evento tap perché a questo punto l'utente deve proprio premere col suo ditino e poi gli diremo come azione associeremo l'azione di vai alla pagina successiva all'evento tap il gioco è fatto ok è tutto chiaro fino qui mi date un feedback che state seguendo perché adesso il gioco si fa duro e quando il gioco si fa duro conoscete la battuta i duri cominciano a giocare però intanto con la composizione di questa prima pagina abbiamo visto un po' come funziona il meccanismo all'interno di pub coder ok benissimo allora adesso passiamo al gioco vero e proprio allora il gioco vero e proprio ovviamente è molto più complesso intanto guardiamo come è disposta l'interfaccia voi lo potete replicare quello che io sto facendo perché vi ho lasciato nell'aula virtuale proprio il documento originale quindi si chiama documento sorgente il file sorgente cioè il file proprio su quale sto lavorando io non solo il prodotto il risultato ma proprio questo documento fatto esattamente in questa maniera allora notiamo che qui abbiamo due contatori ecco qua abbiamo due contatori uno si vede un po' poco penso perché lo schermo è grande gli oggetti sono piccoli ma sono questi due poi abbiamo l'icona che abbiamo visto anche prima e osservate qui dentro abbiamo un campo di testo questo campo di testo contiene il numero 10 lo vedete eccolo qua è un campo di testo piccolino collocato su questo schermo tra l'altro questo campo di testo è stato regolato in modo che il colore del testo sia bianco come si regola il colore ma sempre nelle proprietà lo vedete si passa dagli oggetti che sono collocati sulla sinistra alle proprietà degli oggetti che invece sono collocati nell'area di destra e quindi basta selezionare il testo il nostro oggetto in questo caso testo e poi qua colore naturalmente definite il colore che desiderate e quindi deve essere bianco perché compare sullo sfondo nero dell'icona o poi abbiamo un elemento audio perché perché mentre il conteggio il gioco funziona c'è una colonna sonora che di intrattenimento di suspense che viene avviata poi che cosa abbiamo abbiamo due cose qui abbiamo un oggetto che adesso vedremo molto interessante che è l'oggetto di animazione che contiene i QR code e poi qui invece abbiamo semplicemente un'icona che non ha nessuna funzione se non quella di occupare uno spazio bianco e poi abbiamo due diciamo fino a questo punto il meccanismo del gioco è costruito con questi elementi poi ne abbiamo altri due invece che stabiliscono che noi abbiamo esaurito tutti i nostri tentativi e sono appunto questa questo oggetto che non è altro che un oggetto di testo con questa scritta un oggetto di testo su sfondo nero che adesso è nascosto lo vedete infatti se io lo rendo visibile ecco come appare appare in questo modo nero col testo bianco e l'abbiamo collocato fuori della area visibile al lettore e poi abbiamo un pulsantino che è questo anche questo nascosto perché quando il gioco finirà il lettore potrà tramite questo pulsantino passare alla pagina successiva sarà interessante vedere in che modo questo elemento che è stato collocato fuori dalla pagina fa il suo ingresso invece nella pagina adesso vediamo come il gioco è stato costruito quindi vediamo dove e come sono state collocate le interazioni allora passiamo un attimo alla nostra interfaccia tramite le nostre slide perché parliamo di diagrammi di flusso e vediamo due modi di rappresentare un diagramma di flusso per la costruzione del gioco questo è molto importante soprattutto se lavorate con delle altre persone per esempio con i vostri allievi in classe perché prima il giochetto deve essere progettato allora qual è il meccanismo il meccanismo è che nel momento in cui io scuoto scuoto il mio smartphone cioè utilizzerò l'evento shake e adesso passo a pubcodere e ve lo mostro l'evento shake eccolo qua lo troviamo sulla destra vedete l'evento shake che è associato a questa immagine quindi ho scelto un oggetto qualsiasi che però rimanga presente sulla pagina in modo che possa recepire l'evento shake quindi quando viene ricevuto l'evento shake succedono due cose e queste cose succedono contemporaneamente sono indicate da queste frecce azzurre la prima è che parte un'animazione questa animazione è composta da due quarkod è quella che voi avete visto cioè prima viene mostrato il quarkod 1 poi il 2 poi l'1 poi l'2 poi l'1 poi l'2 poi l'1 poi l'2 per quante volte adesso questo lo vedremo però parte questa azione anzi direi che parte il loop di questa azione in secondo luogo ecco la seconda freccia blu parte anche il contatore che si chiama contattempo 10 9 beh qui ci andrebbe l'8 ovviamente io ho fatto il copio e incolla della figura precedente 8 e così via quindi il contatore scalerà i valori da 10 fino a 1 nel momento in cui arriva alla fine quindi il contatore si dice che raggiunge il suo target attenzione raggiunge il suo obiettivo ecco che parte la sequenza di eventi che è indicata dalla freccia viola vale a dire si interromperà a questo punto l'animazione e in secondo luogo bisognerà dire a un altro contatore cioè il contatore che abbiamo chiamato con il termine di tentativi che è stato eseguito il primo tentativo e quindi questo contatore se lo segnerà perché il target di questo contatore è pari a 2 i tentativi possibili sono 2 voi potete anche indicarne 3 o 4 ovviamente di tentativi e naturalmente in questo caso le azioni saranno ripetute 3 o 4 volte quindi a quel punto riparte tutto il processo quindi si ritorna la freccia blu riparte l'animazione riparte il conteggio e di nuovo verrà interrotta l'animazione però a questo punto siamo con la freccia rossa perché perché la freccia rossa mi indica che semplicemente che sarà interrotto tutto il gioco quindi qui interromperemo l'animazione e a questo punto verrà caricato nel contatore che abbiamo chiamato tentativi verrà caricato un'altra esecuzione del gioco e il contatore si porterà a livello di 2 e quindi dirà oh caspita ho raggiunto il mio target che cosa devo fare? beh dovrai fare le cose che abbiamo assegnato a te caro contatore numero che hai raggiunto il target e quindi dovrai nascondere e mostrare di nuovo quello che abbiamo visto prima quindi nasconderai degli elementi che non servono più cioè tutti le componenti del gioco e poi farai apparire la pagina che diciamo l'informazione che abbiamo visto prima cioè ha esaurito i tuoi due tentativi a disposizione questo è un modo per lavorare con un flusso grafico un diagramma di flusso però in modo visuale grafico potete usare 10.000 applicazioni per fare questo altrimenti possiamo usare invece un diagramma di flusso logico cioè le stesse identiche operazioni però sono come dire riprodotte su un quaderno attraverso del semplicemente un testo che logicamente attraverso una successione di operazioni spiega quello che dobbiamo fare quindi lo shake d'accordo questi sono gli elementi di programmazione che abbiamo stabilito all'interno di pubcoder quindi cambia testo mostra oggetto riproduci decrementa il contatore e così via ma qui è in realtà la spiegazione che noi ci siamo annotati quando abbiamo voluto creare il gioco quindi riproduci l'animazione cambia il testo da scuoti a inquadra certo perché se io ti dico che devi scuotere il tuo dispositivo e tu l'hai agitato a quel punto compaiono i QR code e quindi ti devo dire che tu devi inquadrare i QR code non devi più scuotere niente quindi mostra il contatore decrementa il contatore conta il contatore conta tempo attendi un secondo decrementa il contatore conta tempo attendi un secondo decrementa eccetera eccetera fino a che poi devi decrementare il contatore tentativi e il contatore tentativi poi interromperà il gioco allora mi dite che è tutto chiaro deve essere tutto chiaro assolutamente perché adesso dobbiamo vedere veramente come si costruisce quindi con pubcoder tutto questo ok ditemi un ok un ok si no non ci ho capito niente oppure è una banalità pazzesca ci insegna le stupidaggini non so qualsiasi cosa però dalla quale io capisca che voi abbiate capito e posso continuare sì insomma eh c'è un insomma allora palamina che scrive insomma palamina se c'è qualche cosa che magari ti è sfuggito in quanto in quello che ho spiegato ci possiamo sempre poi ritrovare anche nella classe virtuale qualche domanda la potete sempre porre io cercherò di rispondere intanto seguiamo perché ripeteremo quello che vi ho appena spiegato però attraverso la costruzione di questa interfaccia allora che cosa faccio io guardate io per esempio creo proprio una nuova pagina e la porto qui è una pagina bianca perché voglio vedere un po' fino a che punto riusciamo a ricostruire le cose allora prendo la pagina che ho chiamato gioco intanto notate che ogni pagina ha suo nome e che qui nella sezione nella prima sezione che è quella del ecco quella della pagina nella sezione diciamo delle proprietà abbiamo il titolo della pagina e poi abbiamo stabilito che questa pagina è anche un inizio di capitolo perché vedete così avremo come capitoli del libro il capitolo copertina informazioni gioco poi c'è una pagina che non serve a niente quella che io ho creato adesso più quella di autore e ognuna di queste pagine sarà un capitolo naturalmente fra un capitolo e l'altro possono esserci tante pagine che non necessariamente devono avere un nome né devono essere dei capitoli però voi distinguete una pagina capitolo da un'altra dal fatto che c'è questo pulsantino rosso che identifica vedete c'è questo segnalibro rosso che identifica le pagine capitolo mentre le pagine invece normali non hanno questo segnalibro allora il punto da cui partire è questa icona è lei che conterrà le azioni necessarie a far partire tutto il meccanismo naturalmente voi potrete anche come nell'altro caso invece trascinare un pulsante nella pagina e creare tutte le azioni tutti i meccanismi all'interno di questo pulsante vediamo allora prima di tutto che cosa dovrà fare nel momento in cui l'utente agiterà il suo dispositivo quindi cerchiamo intanto tra gli eventi l'evento shake cioè quando il dispositivo verrà utilizzato ecco perché noi non possiamo fare questo lavoro con i computer da tavolo o diciamo alcuni notebook o computer portatili perché non hanno i sensori che rilevano lo shake del dispositivo quindi dobbiamo per forza giocare con degli smartphone dei tablet oppure quei computer che sono sia smartphone che cioè sia computer che tablet hanno questa possibilità al loro interno quando l'utente scuote la prima operazione azione sarà quella di riprodurre che cosa l'animazione allora parliamo di questo perché a questo punto noi dobbiamo collocare l'animazione sulla pagina quindi facciamo così andiamo nella pagina bianca perché ripetiamo da zero questa cosa prendiamo l'oggetto animazione qua sulla sinistra lo ingrandiamo un po' in modo anche che si veda bene perché questa sarà l'area che le immagini occuperanno e poi cosa faccio doppio clic solito doppio clic e ecco come si presenta l'interfaccia devo cercare le immagini che saranno ovviamente i miei due quark code quello di fantastico ho vinto e peccato invece non ho vinto allora abbiamo inserito i fotogrammi apro una parentesi noi stiamo parlando di un gioco che è fondato sui quark code ma è chiaro che intanto stiamo usando un sistema di animazione quindi se noi abbiamo creato con un'applicazione qualsiasi delle una successione di animazioni poi possiamo importare i singoli fotogrammi qui e riprodurre le animazioni ma poi questo gioco può riguardare qualsiasi cosa per esempio parole per esempio potete creare un gioco in cui ci sono per esempio delle combinazioni di parole o di lettere e quindi il giocatore poi deve o la squadra deve trovare le parole adatte oppure deve continuare la storia cioè queste sono immagini che vengono mostrate in successione quindi ecco perché nel titolo del webinar è comparso il termine fantasia perché dipende solo da voi il tipo di utilizzo che potete fare di questo oggetto le immagini possono essere qualsiasi cosa e pensate anche il livello di inclusione e di accessibilità che potete ottenere creando un gioco di questo genere dunque adesso abbiamo inserito le nostre due immagini perfetto ma come facciamo a far partire l'animazione beh guardate intanto voi avete il programma sorgente quindi fate quello che faccio io cioè tornate indietro nella pagina e prendete questo oggetto e guardate come sono regolate le proprietà dell'oggetto vediamo un po' perché potrebbe dirci la sezione delle proprietà qualche cosa di interessante allora ci dice che noi vogliamo trasmettere i fotogrammi 4 fotogrammi al secondo quindi 4 fotogrammi al secondo vuol dire che ognuno di queste immagini persiste un quarto di secondo sullo schermo una frazione di secondo cioè è una frazione accettabile nel momento in cui io devo essere veloce e tac con il mio QR code reader a inquadrare lo schermo e e a vedere poi naturalmente qual è il risultato poi mi dice anche che contemporaneamente parte un suono eccolo qua parte un suono quindi il suono è stato scelto sempre dalla libreria in questo modo naturalmente le mie scelte qui si riducono a un file audio solo perché è quello che ho importato e quindi eccolo qua a questo file audio che parte automaticamente nel momento in cui il gioco parte naturalmente io potrei anche decidere di continuare all'infinito questo gioco va bene ma gli dirò invece che quando ha finito il gioco deve rimanere sull'ultimo fotogramma in modo che diciamo sia fisso perché noi possiamo anche decidere che per esempio il lettore possa avere un'animazione e poi a un certo punto del tutto casualmente l'animazione finisce su una delle immagini che vengono rappresentate è una variante del gioco nella sostanza che cosa abbiamo stabilito che da questo da quest'icone dell'evento associato shake come prima cosa parte l'animazione parte l'animazione e succederà che deve cambiare come secondo azione collegata che deve cambiare il testo vi ricordate questo era il testo scuoti come deve essere cambiato il testo deve essere cambiato da scuoti in quadra quindi guardate l'operazione che noi facciamo il testo scuoti questo deve cambiare in guardate qua in basso modifica testo facciamo e c'è una rondellina molto piccola vediamo se riesco a mostrarvela c'è questa rotellina molto piccola se io faccio un tap su questa rotellina ecco che appare il riquadro all'interno del quale scrivere il nuovo testo che non è una sostituzione del precedente è solo che lui si ricorda che deve sostituire il testo di prima con quest'altro in quadra è molto interessante questa funzione dello sostituisci testo anche qui io invito a utilizzare la vostra fantasia potete creare dei dialoghi tra personaggi potete creare delle mappe a scomparsa che fanno apparire e scomparire delle informazioni sempre all'interno di uno stesso campo di testo è molto comodo senza riempire la pagina di decine o centinaia di oggetti e poi naturalmente la solita durata dissolvenza e così via quindi vi è chiaro la seconda operazione che abbiamo compiuto è prima riproduci l'animazione e poi cambi il testo e adesso cosa dovrai fare dovrai mostrare oggetto numero numeri riprodurre l'animazione nascondere l'oggetto mostrare oggetti eccetera eccetera vediamo un po' per volta in che cosa consistono queste operazioni vediamo mostriamo l'oggetto numeri che cos'è l'oggetto numeri andiamo a cercare l'oggetto numeri è questo qua piccolino eccolo qua l'oggetto numeri è questo e lo devi mostrare perché era nascosto e noi vogliamo far vedere al nostro utente che il contatore sta contando poi riproduci l'animazione ovviamente a questo punto e nasconderai eccolo qua l'oggetto che sarebbe vediamo se riusciamo a mostrarlo eccolo qua deve nascondere ecco l'immagine di sfondo perché sopra deve comparire l'animazione dei nostri QR code vedete che sono due immagini una sovrapposta all'altra avevamo anche altre soluzioni per esempio quella di far passare di livello un'immagine rispetto all'altra anche questo è possibile ritorniamo alla nostro pulsantino poi nascondi oggetto mostrerai ovviamente l'oggetto animazione e poi a questo punto ecco che iniziamo a contare e questa è la parte più interessante del nostro programmino e cioè abbiamo prima di tutto creato i due contatori eccoli qua il contatore tentativi e il contatore conta scusate non riesco a tornare indietro eccolo qua e il contatore conta tempo il contatore tentativi e il contatore conta tempo come li abbiamo creati? allora richiamoci sulla nostra pagina bianca per riprodurre questa esperienza eccola oggetti tra gli oggetti abbiamo il contatore che sono i controller cioè quelli che ci consentono per esempio di stabilire una lista di azioni area interattiva avere degli oggetti all'interno fra questi c'è il contatore noi lo trasciniamo e diciamo che questo contatore conta il numero conta il tempo d'accordo? dato che è il contatore che stabilisce quanto il gioco deve durare dobbiamo dirgli qual è il punto che lui deve raggiungere per compiere determinate azioni quindi torniamo nella parte di destra dove possiamo stabilire le proprietà di questo contatore ed ecco che le troviamo qua qual è il valore target del contatore? beh diciamo che il target sia 10 diamo 10 diciamo come dire ripetiamo per 10 volte l'azione di mostrare e nascondere il qualcode e qual è il valore iniziale da cui partire? va bene il valore iniziale può essere 0 oppure possiamo fare il contrario in questo caso partiamo da 10 il valore iniziale è 10 però dobbiamo sapere che il valore target a questo punto deve essere 1 non possiamo assegnare lo 0 come valore target vedete perché abbiamo stabilito il valore iniziale in 10 perché poi noi vogliamo mostrare sul nostro testo che si scala da 10 a e quindi viene più logico calcolare a ritroso che non al contrario adesso ritorniamo nella pagina precedente e vediamo che cosa succede quando il nostro contatore conta i tentativi perché cioè conta il tempo perché dobbiamo associare le azioni cioè che cosa deve succedere quando il nostro contatore raggiunge il suo target cioè raggiunge il valore di 1 10 9 8 7 6 eccetera fino a 1 dovranno avvenire delle azioni se no cosa conto a fare perché ricordiamoci io sto ripetendo il gioco fino al punto in cui il contatore me lo consentirà quindi ecco che nella parte di destra nella sezione delle interazioni ho proprio degli eventi che riguardano specificamente il contatore per esempio ho il valore target raggiunto quindi quando il valore target è raggiunto che cosa bisogna che capiti all'interno di questa pagina allora prima di tutto interrompo l'animazione eccola qua quindi l'animazione viene interrotta poi nascondo l'oggetto animazione quindi nasconderò l'oggetto stesso dei QR code questa l'animazione e poi mostrerò che cosa mostrerò l'immagine sottostante quella della lente e quindi ritorniamo alla situazione di partenza vi è chiaro il meccanismo quindi ricalcoliamo la questione partiamo da questo pulsante e scegliamo l'opzione shake quindi quando il lo strumento viene agitato parte l'animazione viene mostrato l'oggetto e naturalmente l'oggetto animazione cioè il QR code viene cambiato cambiata la scritta a questo testo e viene azionato il contatore perché vedete decrementa contatore contatempo quindi io qui in questo punto lui toglie un valore al numero 10 del contatore cambia testo attende e poi cosa succederà che dovrà ripetere queste operazioni guardate devo ripetere semplicemente queste operazioni quindi decrementa di un punto poi attende un secondo e quindi in questa attesa di un secondo l'animazione va avanti poi decrementa di nuovo il contatore attende un secondo in questa attesa di un secondo il contatore va avanti decrementa il contatore attende un secondo e così va avanti va avanti per nove volte ovviamente cioè tante quante sono 10 meno 1 cioè le 9 volte 9 ripetizioni di quando è arrivato alla fine quando è arrivato alla fine ecco che a questo punto incrementa l'altro contatore cioè questo che abbiamo creato qui e che lo riproduciamo dalla nostra pagina bianca funziona in questo modo trascino il contatore sulla pagina gli do come nome quello di contare i tentativi cioè i tentativi generale e ovviamente siccome i tentativi sono due il valore target sarà questo sarà due e quindi in questo caso non decrementerò il contatore ma farò invece lo incrementerò cioè aggiungerò gli elementi e infatti così succede cioè quando qui io ho esaurito decrementa contatore decrementa contatore arrivo alla fine quindi se voi calcolate sono nove queste operazioni a questo punto cambio testo naturalmente è chiaro poi incremento il contatore tentativi e poi cambierò testo da inquadra in scuoti perché ritorniamo alla situazione precedente che cosa deve fare il contatore tentativi il contatore tentativi dovrà registrare il numero che gli è stato assegnato quindi primo tentativo ma anche lì quando ha raggiunto il target dovrà fare una serie di operazioni e cioè vediamole qua conta i tentativi dovrà per esempio interrompere l'animazione quale animazione ovviamente quella che abbiamo inserito nella pagina poi che cosa dovrà fare dovrà mostrare mostra ok e poi dovrà nascondere cioè dovrà mostrare dovrà nascondere degli oggetti che sono le varie elementi che appaiono sulla pagina con un elemento in più che è questo che abbiamo visto che farà il suo ingresso all'interno della pagina in questo modo quindi vediamo che cosa come si crea questo si crea con l'oggetto con l'azione sposta all'oggetto quindi vediamo di ricrearla questa situazione nella pagina nuova quindi abbiamo anzi facciamo così collochiamo un oggetto qualsiasi un testo bene fuori fuori dal nostro dal nostro dalla visuale della pagina scriviamo al suo interno fine va bene semplicemente così giusto per farvi vedere come funziona questo meccanismo e poi diciamo che a questo punto quando il valore target è raggiunto quindi siamo nel contatore che conta i tentativi quando il valore target è raggiunto cosa dovrà fare dovrà spostare questo oggetto sulla pagina quindi faremo così aggiungi una nuova azione l'azione sarà quella di sposta sposta oggetto e guardate come l'oggetto lo spostiamo dobbiamo prima individuarlo e sarà questo poi compare vedete qui un pulsantino eccolo qui questo pulsantino noi lo acchiappiamo e lo trasciniamo sulla pagina nel punto in cui desideriamo che poi l'oggetto venga collocato si crea questo tratteggio questo tratto così che porterà l'oggetto qui se poi gli diciamo anche in quanto tempo deve essere compiuta questa operazione per esempio lento alla fine all'inizio sono tutte naturalmente caratteristiche che possiamo assegnare ecco che noi abbiamo creato questa animazione anche questo trucchetto è interessante perché voi in questo modo potete far comparire scomparire sulla pagina un sacco di elementi per esempio potete inserire un pulsante immaginate tanto per creare un gioco qui abbiamo inserito non lo so due pulsanti e questi pulsanti sono nascosti e sono sotto un'immagine e non lo so pensate all'immagine della savana e c'è un laghetto e nel laghetto vediamo quale animale si va ad abbeverare allora farò clic su questo pulsante che è quello che sta nascosto sotto il laghetto ed entrerà l'animaletto tutto bello pimpante e prenderà posizione nel laghetto ok anche qui fantasia naturalmente questo gioco come vi ho spiegato è un pretesto per poi un po' ho voluto proporvi qualcosa di un po' sofisticato in modo tale che voi ci possiate ragionare bene su come utilizzare questi elementi allora adesso voglio ricapitolare un po' tutto l'insieme dunque che cosa abbiamo fatto? abbiamo collocato due contatori il primo contatore ha come valore iniziale 10 e conta che cosa? conta le volte che i due quadri devono comparire cioè l'animazione deve essere mostrata a schermo il secondo contatore invece ha come target il valore 2 e conta che cosa? conta le volte che noi rigiochiamo a questo gioco giochiamo rigiochiamo quindi una volta e poi la seconda volta a questi contatori sono associati delle azioni lo vediamo qui quando è finito il primo gioco lui che cosa farà? nasconderà e mostrerà gli oggetti che deve mostrare e nascondere quindi nasconderà i QR code rimostrerà invece l'immagine sottostante e l'interfaccia tornerà quella di partenza il secondo invece contatore che cosa farà? quando ha raggiunto il target dovrà scatenare delle azioni che sono quelle appunto di interrompere l'animazione e poi anche lì di nascondere e mostrare degli oggetti il principale oggetto che dovrà mostrare sarà questo cioè esoriti i tuoi due tentativi a disposizione e poi il pulsantino il pulsantino che consente all'utente di passare all'altra pagina da quale meccanismo sono azionati i contatori sono azionati da questa icona che è l'icona dello smartphone che viene scosso attraverso l'evento shake quindi tutto parte da questo evento quando l'utente scuote il suo smartphone partono una serie di azioni prima di tutto la riproduzione dell'animazione poi cambi oggetto nascondi oggetto e poi naturalmente si comincia a decrementare il contatore si decrementa il contatore una volta due volte tre volte quattro volte cinque volte sei volte sette volte otto volte nove volte eccolo qua e poi a questo punto abbiamo raggiunto il limite il target del contatore e quindi dovrà cambiare testo e dovrà incrementare a questo punto dire al contatore che conta i tentativi che è stato compiuto un gioco completo il contatore dei tentativi lo registra e se ha raggiunto il valore target cioè se il gioco è stato fatto due volte lui interromperà tutto mostrerà quello che dovrà mostrare e nasconderà quello che dovrà nascondere guardate è più facile farlo che spiegarlo ovviamente penso che abbiate tutti gli elementi per poterci ragionare avete il lavoro pubblicato avete avrete le mie slide a disposizione chi vorrà avrà anche la registrazione del webinar avete la classe per poter porre delle domande avete il file sorgente io più di così non posso fare e è difficile spiegare queste cose a distanza ma spero di esserci riuscito e che abbiate capito il meccanismo attraverso il quale possiamo creare questo gioco e quindi a partire dall'unione di animazioni contatori oggetti da far comparire scomparire e anche le musichette così che rendono simpatico l'ambiente poi sta alla vostra fantasia creare veramente dei libri game interessanti per esempio per gli insegnanti delle squadre elementari con i disegni dei bambini per insegnanti magari di discipline specifiche impegnative costruire delle interfacce che scoprano diversi elementi attraverso un meccanismo di gioco quindi io a questo punto che cosa faccio a questo punto devo parlarvi della pubblicazione quindi come si pubblica molto semplice ve lo spiego rapidamente quindi abbiamo finito il nostro gioco per pubblicarlo noi dobbiamo tenere conto di questo elemento questo lo vedete eccolo qua e scegliamo i pub 3 vedete da qui in alto a sinistra scegliamo i pub 3 dalle varie opportunità che abbiamo a disposizione o x pub allora vi ripeto che x pub funziona con il reader cioè con l'applicazione che consente di leggere i libri creati con pub coder informatics pub e questo reader è creato dal team di sviluppo di pub coder stesso e lo scaricate per ios cioè i dispositivi mobili di apple e per android altrimenti utilizzate i pub 3 che poi è lo standard dell'ipub e in questo caso vi ho già parlato dei reader necessari per per leggerlo quindi scegliamo i pub 3 e poi guardate che cosa facciamo naturalmente gli dobbiamo cancellare quella pagina che abbiamo creato perché altrimenti darà errore perché è una pagina che non abbiamo utilizzato per programmare qualche cosa di effettivo ecco e a questo punto potete scegliere in che modo distribuire il prodotto potete farlo attraverso il wifi se lo fate attraverso il wifi qui compairà un QR code e quindi questo QR code vi porterà sulla sulla pagina che è questa però naturalmente qui siamo su una rete locale non siamo su internet quindi se voi provate non funziona il sistema ma col vostro dispositivo portatile mobile voi caricherete direttamente il libro sul vostro dispositivo invece se qui cambiate e scegliete che deve essere un file un file in formato ePUB beh allora ecco che create il prodotto e lo troverete dove desiderate sulla vostra scrivania o all'interno di una cartella e poi lo distribuirete eccolo qua vedete sarà distribuito poi da qualche parte come siamo arrivati però a creare questo progetto beh siamo arrivati da qua nuovo progetto nuovo progetto inizia un nuovo progetto stabilisce la dimensione le caratteristiche di questo progetto abbiamo scelto iPad 1024x768 perché? perché questo è ancora il formato più standard che possibile perché ormai c'è una varietà tale di schermi così di dimensioni è veramente notevole ma il 24x768 è abbastanza compatibile direi che è leggibile praticamente la stragrande maggioranza di dispositivi tutto lì se avete dei dubbi in ogni caso avete sempre qui la funzione impostazioni e quindi con impostazioni voi potete poi stabilire per esempio i formati di pagina e quindi qui vi ritrovate eccolo qua l'elenco dei formati a disposizione che è quello che ho mostrato poi in questa slide bene a questo punto io che cosa faccio vorrei prima di chiudere il seminario di leggere le vostre osservazioni e domande avvio il sondaggio intanto con comodo io posso dedicarmi alla lettura di quello che avete scritto allora rosanna dice è fantastico quello che si può realizzare con questo programma certo perché voi pensate che praticamente noi possiamo creare delle vere e proprie applicazioni sotto forma di ebook le possiamo poi distribuire gratuitamente vendere inventare dei giochi insomma ci va un minimo di esperienza di coding però il coding inserito in pubcoder non è un coding sofisticato è un coding che è funzionale alla creazione di un libro quindi non possiamo per esempio gestire delle variabili o delle strutture di controllo tipo if, then, else e men che meno possiamo gestire delle funzioni cosa che invece se vi interesserà perlomeno magari se c'è una quota di voi che è particolarmente interessata a questo potremo affrontare con altre applicazioni che servono invece per creare fare del coding serio e ci sono anche degli strumenti gratuiti open source veramente interessanti prima di inserire di procedere nella costruzione del gioco ha eseguito la ploa degli oggetti da inserire certo prima ho preparato tutto prima ho pensato il gioco e l'ho pensato buttando giù degli schifo e siccome non l'ho fatto questo con gli studenti non sono stato preparare i diagrammi di flusso che ho buttato giù due schizzi e poi l'ho realizzato direttamente invece con gli studenti dobbiamo lavorare in modo molto meticoloso perché poi loro si distraggono non si ricordano quello che devono fare eccetera quindi è bene ragionare su quello che si vuole fare allora se il numero fosse maggiore di 10 non c'è un ciclo che consente di ripetere l'azione per non riscrivere più volte beh allora in questo caso sì ed entra in gioco la lista azioni voi dovrete utilizzare la lista azioni perché tutto il sistema che è stato agganciato all'icona che scuote l'iPhone lo trasferite all'interno di una lista azione e poi ripetete semplicemente la lista azioni però io ho creato diciamo questo diagramma di flusso non è quello che io farei se dovessi programmare questo gioco all'interno di Pubcoder ma è quello che invece farei se lo dovessi spiegare perché altrimenti metterei troppa carne al fuoco per cui entrano in gioco altri elementi però prova ad utilizzare la distazione o perlomeno guarda come è fatta e poi casomai ne possiamo riparlare dunque il gioco si fa certo scuotendo dal lettore esatto dovete scuotere proprio il dispositivo si usate questo si usate 1024 Giuseppina chiede 1024x768 perché perché poi il gioco voi lo distriburete quindi c'è chi lo guarderà su un piccolo smartphone chi lo guarda su un iPad prod a 13 polli cioè ormai c'è una tale differenza e varietà di strumenti che è molto complicato e non possiamo pensare di realizzare un prodotto per ognuno di questi perché perché cambiando le dimensioni dell'interfaccia poi noi dobbiamo riposizionare tutto diventa un lavoro che non ha senso a questo livello chiaramente quindi direi che quella dimensione lì è abbastanza standard per garantire una buona visualizzazione un po' dappertutto va bene allora quando voi adesso vediamo i risultati poi chiudiamo il webinar quando se pensate di realizzare qualche cosa anche guardate qualche cosa qualche esperimento per esempio una pagina con qualche cosa che capita su questa pagina inseritolo nella board relativa a questo webinar voi dovete chiedere l'autorizzazione a inserire il file io ve la do naturalmente perché così possiamo vedere questi lavori e io eventualmente vi posso dare dei consigli allora avete risposto qua il 70% votato siete ormai nello spirito natalizio se non avete più voglia di lavorare 72% io chiudo fra 5 secondi 5 sono chiudo tramite il mio contatore umano quello che ho incorporato 5 4 3 2 1 chiudo il sondaggio ci siamo tac chiudo il sondaggio e mostro i risultati così questo sondaggio è per divertirsi un po' di solito chiude il nostro non farò mai un libro che neanche una risposta ma va veramente allora vuol dire che in qualche modo siete stati interessati a quanto abbiamo visto interessante voglio fare delle prove ok lo sapevo che sarebbe stato interessante provate tra l'altro è uscita la versione 3 di pubcoder proprio in questi giorni l'ho detto all'inizio quindi ed è più bellina anche come interfaccia funziona meglio sono tante cosette carine avrei già delle idee da realizzare in classe 12 per oi 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 qua è un po' bassa è la percentuale qui mi aspettavo veramente un 70 80 per cento veramente no avete non avete idee 12 per cento ma va accidenti non so se userò pubcoder ma le idee sono interessanti ok è legittimo questo abbiamo tante applicazioni tanti strumenti da utilizzare ormai noi non siamo più nella condizione di dover rimanere attaccati a qualche cosa ecco diciamo quindi possiamo prendere delle idee degli spunti che vengono spiegati attraverso un'applicazione e poi vedere invece con altri strumenti che cosa è possibile fare quindi è legittimo e va molto bene vorrei pensare a creare qualcosa di personale per me certo dai provate e basta non mi resta che dirvi provate 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 e poi vedremo che cosa succede bene a questo punto direi che abbiamo concluso e è molto probabile che prepari un webinar per giovedì sera che è un webinar appunto come dicevo all'inizio sulla pubblicazione perché abbiamo lo dico per chi magari è entrato dopo abbiamo oggi l'opportunità veramente di creare degli ebook che sono contemporaneamente sia diciamo digitali ma anche di carta di carta e questo lo trovate veramente su Amazon e su IBS oppure lo potete se voi siete gli autori naturalmente ordinare le vostre copie e poi distribuirle nei convegni tra amici eccetera io ho detto ad alcuni colleghi della scuola li ho fatti scampare un po' ve li sono fatti spedire e li ho distribuiti ad alcuni amici della mia scuola ed è veramente una cosa interessante bibli di testo autopubblicazione ormai siamo di fronte a un campo incredibile che consente veramente di distribuire in tutti i modi possibili e immaginabili non c'è più limite alla creatività non sono più gli strumenti che ci impediscono di essere creativi e di lavorare in modo intelligente con i nostri ragazzi non sono più gli strumenti sono solo le idee quindi lavoriamo sulle idee e sulla nostra creatività e con questo mantra vi saluto vi auguro anche buon Natale nel caso in cui non ci vedessimo giovedì perfetto ok grazie anche al team di Babacode qualcuno scrive va bene ok si la versione trial va bene per fare delle prove poi chiaramente come in tutte le cose si deciderete se è uno strumento che fa al caso vostro o meno arrivederci a tutti riceverete appunto una comunicazione nel caso in cui lo decido tra stesse domani se ho l'opportunità di fare questo webinar prima di Natale cioè giovedì sera ciao a tutti grazie per aver partecipato e ci rivediamo poi nella nostra aula virtuale e nei prossimi incontri vai arrivederci